Sì, questa mattina incontro in aula consigliare con i lavoratori stagionali che hanno prestato servizio all'ASE. Le chiedo cosa è successo? L'incontro, anzi secondo me, è un buon ritardo doveva venire qualche giorno fa perché loro hanno svolto un lavoro eccellente durante il periodo estivo e quindi noi vogliamo mantenere il decoro della nostra città attraverso una pulizia, attraverso un grande lavoro dove c'è anche la parte fondamentale del vice sindaco Giuseppe Bass e pertanto noi vogliamo la continuità di quel servizio che veniva interrotto qualche giorno fa. Pertanto per dare continuità di essere veloce abbiamo interpellato l'amministratore con il quale c'è stata l'apertura e poi da parte nostra c'è stata questa sensibilizzazione dell'Ende per avere una continuità di servizio considerato che vogliamo una Manfredonia pulita, vogliamo una città accogliente. Avete visto stamattina l'ennesima nave di mini crociera che è arrivata a Manfredonia, allora noi dobbiamo essere sempre pronti e farci trovare preparati in quelli che sono l'accoglienza per i turisti e anche per i cittadini. Sindaco c'è qualcuno che ha associato il momento di questa mattina all'attuale campagna elettorale, ecco quello che le chiedo direttamente ci sono stati anche dei risvolti o comunque degli accenni ai prossimi candidati? Forse quel qualcuno è disperato per i risultati che arriveranno e per quello che è, io non entro in merito a questo perché insomma non è il compito nostro.